Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per iniziare una serie che voi stessi mi avete richiesto in attesa di ricominciare poi i miei spazi live, in questo momento sono in vari spostamenti, sto facendo dei cambiamenti e quindi lo spazio live per il momento l'ho sospeso, però riesco ad occupare questo tempo grazie a voi che mi avete richiesto una cosa molto molto particolare. Allora, molti di voi mi hanno richiesto di parlarvi e di fare ascoltare le canzoni del gruppo di cui ho fatto parte per tanti anni, esattamente fra il 99 e il 2006, e il gruppo di cui vi sto parlando sono di Wonderland, del gruppo metal, della musica italiana, del quale appunto ho fatto parte, del quale sono stato cantante. Allora, io in questo percorso, che poi sarà inserito nella playlist proprio delicata, di Wonderland, che già esiste sul mio canale, con tutti i video che hanno postati i fans, perciò io ringrazio anche loro, chiaramente vi farò sentire le canzoni e poi là vi dirò anche qualche curiosità di questi dischi. Allora, per iniziare quindi questa storia dedicata all'Wonderland, storia chiaramente prettamente musicale, oggi vi faccio ascoltare la canzone che è stata praticamente l'esordio di questo gruppo, la canzone si intitola Summer in My Eyes, ed è stata la canzone che ha praticamente fatto l'esordio, eccolo là, al gruppo e in pratica questa canzone è uscita nel Natale, nel Natale del 1999 e ha dato appunto gli esordi al gruppo degli Wonderland. Il gruppo degli Wonderland in questo disco era praticamente composto da da cinque componenti e io riceto in ordine sparso, che sono Frank, Andrea Tauart, Torricini e poi c'è anche Vic alla chitarra, Jaime all'altra chitarra e chiaramente io, Alessio, eccomi qui, alla voce, va bene? Ok, perfetto, lo sta anche riprendendo, ok chiaramente. Allora, voi stessi mi avete richiesto questo, quindi non è assolutamente un'autocelebrazione questa, è proprio una cosa che avete richiesto voi, mi avete detto, come il maiale, canti tante canzoni di tutti, parli di tutti e non lo fai del tuo gruppo, è vero, è vero, ma voi sapete che io non sono molto abituato all'autocelebrazione, perciò a volte io sorvolo molto. Io vi ringrazio per questa richiesta. Oggi cominciamo questo viaggio musicale dedicato a questo gruppo, Wonderland, ascoltiamo Somewhere in my eyes. Buon ascolto e grazie. Grazie per la visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti